Musica Edizione della sera di Oratg, ben trovati. Dunque apriamo con lo sport. Oggi inusualmente Mimmo Toscano, nuovo tecnico delle Catania. Nel pomeriggio la prima conferenza stampa con parole assai chiare. Vediamo. Sarà determinante la scelta degli omni prima che dei calciatori. Questo è un concetto ben chiaro nella mente del nuovo allenatore rossazzurro Mimmo Toscano, presentato ieri pomeriggio ufficialmente dalla dirigenza del Catania FC. Quattro sinora le vittorie all'attivo del neotecnico. Nei vari gironi della campionato di Serie C, la determinazione del club del presente Pelligra lo ha convinto ad assumere l'incarico ai piedi dell'Etna. Ambizioni chiare e idee precise per la costruzione della nuova squadra. Come giocherà in campo il suo Catania? Deve avere delle priorità ben precise il Catania. Ritmo, intensità, sapere cosa fare in campo, in qualsiasi situazione di gioco. Una grande cultura del lavoro, una grande resistenza mentale nei momenti difficili o meno positivi, che siano durante la gara o tra una gara e l'altra o in un periodo, avere la forza mentale di saperli fuori da superare. Perché Catania poi ti dà quella responsabilità dove ti costringe ad essere molto lucido a superare questi momenti. Lei ha vinto in tutti i gironi, l'ultimo con il Cesena. Vogliamo sfatare un po' questo luogo comune della differenza tra gironi, dove c'è più agonismo, dove c'è più tecnica. Per vincere bisogna essere più forti dappertutto. È un luogo comune, perché ogni girone ha le sue difficoltà. Non ce n'è uno più difficile, meno difficile. Tutti e tre i girone, è proprio la Lega Pro che è impegnativa da venirne fuori. Devi capire subito, perché poi ogni annata ha le sue difficoltà di ogni girone. Quali potrebbero essere le variabili la prossima stagione nel nostro girone e costruire una squadra che le sappia superare? Possiamo dire che c'è la speranza che si possa essere all'inizio di un ciclo? Lavoriamo per quello, perché in tutti i contesti dove ho lavorato mi è sempre piaciuto costruire. Mi auguro che possa costruire qualcosa di lungo e duraturo a Catania. Voltiamo pagina il giudice per le udienze preliminari, Carlo Carnella, rinviato a giudizio 11 persone nel procedimento scaturito da un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania su incarichi nell'ambito di progetti finanziati o approvati dall'assessorato alla salute della Regione attribuiti secondo l'accusa a predestinati. Tra gli indagati e dunque rinviati a giudizio, l'ex assessore regionale alla salute e neoparlamentare europeo di Fratelli d'Italia, l'Uruggero Razza, indagato per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di un professionista per uno progetto di 10.000 euro. Per lo stesso tipo di reato contestato è stata invece emessa sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto per l'ex assessore regionale al lavoro, Antonio Scavone, che si era dimesso dall'incarico. Invece sono stati rinviati a giudizio anche Igor Avanti, ex presidente dell'Ordine dei Medici, e Giuseppe Arcidiacono, dirigente medico dell'ospedale Garibaldi ed esponente dei Fratelli d'Italia. Occorrono percorsi specifici per l'accesso dei pazienti con problemi psichiatrici nei pronto soccorso e quanto chiedono sia i sindacati, sia le organizzazioni di categoria della salute, del segmento della salute, a seguito delle ripetute aggressioni negli ospedali. È un extracomunitario in stato di agitazione, viene portato dalla polizia all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Da qui però si allontana, nuovamente riacciuffato dalla polizia che lo riporta nel nosocomio. Dalla stazza possente continua a manifestare in sofferenza e inizia ad aggredire. Afferra dai capelli la dottoressa, la scaraventa a terra, poi le percuota la testa contro il pavimento, la prende a calci. Sul posto arriva un'operatrice sociosanitaria che viene a sua volta afferrata con forza alzata contro un mobilo. Un paziente si stacca agli elettrodi, tenta di soccorrere le due donne, ma viene colpito con un pugno. L'energumeno ha in mano pure una forbice. Arrivano quattro agenti di polizia che precedentemente si erano rivolte alle cure del pronto soccorso perché feriti dallo stesso aggressore. Poi il provvidenziale intervento di un infermiere esperto in arti marziali lo blocca finalmente. Questo è il suo racconto. Ci siamo ritrovati questo soggetto abbastanza imponente fisicamente che ha aggredito i nostri medici e successivamente siamo stati costretti a bloccarlo perché minacciava con delle forbici gli operatori per cui fortunatamente, magari un po' con la mia presenza e la collaborazione di altri miei colleghi, siamo riusciti a bloccarlo e ad evitare il peggio. Il problema è la presenza di questi soggetti all'interno dei pronto soccorso. L'ospedale Canizzaro prova ad adottare già delle misure. Dovremmo cercare di creare dei percorsi, dei protocolli particolari per questi poveri malati perché comunque sono persone che hanno necessità anche loro di essere curati. Sulla stessa riga, la Will FPL di Catania che, praudendo al coraggio di chi è intervenuto, auspica che in futuro non siano necessari altri atti di eroismo. Una soluzione per questi pazienti è quella di farli stare meno possibile in pronto soccorso con dei percorsi che siano celeri e condivisi. E per quel poco che i pazienti sostano in pronto soccorso ci deve essere una vigilanza che non può essere affidata agli infermieri o ai medici, ma ci vuole del personale che sia forza pubblica, che siano personale addetto per queste cose che comunque li vigili. Perché l'episodio che è successo, se non fosse stato per la presenza di un infermiere molto coraggioso, potrebbe aver avuto dei risvolti molto più grave. Veniamo adesso all'emergenza incendi, ovviamente si tratta di roghi appiccati. Andiamo subito a Palermo, c'è anche il rischio di ossina. Settima vasca della discarica palermitana di Bellolampo. Ore 20 di ieri sera scoppia un incendio. Le cause del rogo, che inizialmente sembrava domabile, ma che col passare delle ore peggiorato sono ancora sconosciute anche se si pensa ad un'origine dolosa. A non convincere è sia l'orario serale, sia le modalità ed infine il luogo in cui ha avuto origine la scarpata laterale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere la montagna di spazzature in fiamme. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica per abbassare la temperatura dei rifiuti interrati e scongiurare che braci ancora accesi possano far ripartire le fiamme. Siamo riusciti ad intervenire per tempo, ha detto stamani il presidente della RAP, Giuseppe Todaro. Verranno analizzate le immagini di videosorveglianza. Sulla questione comunque verrà fatta un'ampia relazione al fine di ricostruire l'accaduto. È molto anomalo, devo dire, perché intanto l'orario, c'è sera, 8 di sera, 8 e mezza, quindi non c'era sole, non c'era neanche vento, tra parentesi, quindi ci siamo stranizzati. Fortunatamente noi già da un paio di settimane abbiamo attivato un sistema di monitoraggio H24 di controllo ed immediatamente ce ne siamo accorti. Quindi sono intervenuti immediatamente le squadre più che i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, quindi li ringrazio anzi pubblicamente per il lavoro egregio che hanno fatto questa notte insieme alle nostre squadre, a tutti gli operai della RAP che in forza sono saliti, anche quelli che erano fuori turno, immediatamente per dare supporto alla cosa. Intanto l'anomalia del posto, perché è una scarpata laterale, fortunatamente non è nella vasca, è una scarpata laterale. Risale luglio scorso il drammatico incendio che interessò la discarica di Bellolampo. In quell'occasione il valore di diossina registrato nell'area in alcune zone di Palermo era 35 volte superiore ai valori massimi consentiti. Per quanto riguarda l'incendio di stanotte, rassicura Todaro, poche ore di emissioni di fumo non dovrebbero aver avuto un grande impatto, ma stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. L'impianto di Bellolampo non è nuovo a questo genere di episodi, per questo stiamo aumentando i controlli. Stiamo procedendo a una denuncia cautelativa, perché mi pare strano, perché alcuni giorni fa ci abbiamo trovato un materasso che aveva preso fuoco, l'abbiamo subito spento. Ora questo, come qualcuno in passato diceva, diciamo pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca. Sul posto ieri sera è intervenuto il personale dell'ARPA Sicilia per effettuare le valutazioni dell'aria. A proposito di incendi, i roghi diversi hanno distrutto la notte scorsa quattro autovetture a Giarre. Per i carabinieri potrebbe trattarsi di un'unica mano. Sarebbero opere ad un singolo piroma negli incendi appiccati stanotte a Giarre in danno di quattro vetture in sosta, tra Santa Maria e la strada, tre le auto date alle fiamme e una quarta incendiata nella zona residenziale Regina Pacis della cittadina Etnea, in passato al centro di altri episodi dolosi in danno di autovetture. I carabinieri della locale compagnia avrebbero in mano elementi utili per risalire all'identità del piromano immortalato dalle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali delle zone in cui ha operato. Sembra, senza un preciso obiettivo, forse per appagare la propria maniacale ossessione di appiccare incendi. Dalle prime risultanze investigative, l'incendiare avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni sacchi di rifiuti posizionati sotto le auto prescelte, seguendo un preciso percorso e muovendosi con il favore dell'oscurità nella zona nord tra la statale 114 a Bivio con la frazione mascalese dinunziata. Qui ha incendiato una Fiat Frimonte parcheggiata lungo via Penturo e poi le altre due vetture, una Nissan e una Ford Fiesta in sosta, una accanto all'altra in via Riosto, la quarta una Golf Serie 7 nella zona Regina Pacis. Gli incendi sarebbero stati pianificati tutti in un arco temporale che va dalle 2.30 alle 3 della notte. La Direzione Investigativa Antimafia ha presentato il report dei primi sei mesi del 2023. Ovviamente l'ha presentato al Parlamento. Vediamo. Presentata la relazione della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento sull'attività svolta nei primi sei mesi del 2023. Dalle indagini è emerso che le mafie oggi preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristici e imprenditoriali. Per tale ragione il PNRR rappresenta un campo di interesse in quanto importante pacchetto di investimenti. In tutta Italia è di oltre 29 milioni il valore dei beni sequestrati e quasi 130 milioni quello dei beni confiscati alla mafia. In Sicilia, nel dettaglio, è di oltre 2 milioni quanto alle confische il valore dei beni sfiora i 100 milioni. La criminalità organizzata ricerca la stabilizzazione tra le nuove e le vecchie generazioni, ma le attività investigative ne hanno compromesso la compattezza e la forza dopo la cattura di importanti latitanti. L'aggressione dei patrimoni illeciti accumulato nei decenni ha fortemente ridimensionato il potere di Cosa Nostra. L'oramai minimale ricorso alla violenza da parte della mafia siciliana ha osservato la DIA, rafforza la tesi che la stessa ha capacità di adattarsi ai nuovi scenari dell'economia regionale, nazionale ed estera. Le attività giudiziarie evidenziano la preferenza di Cosa Nostra di infiltrarsi in ambienti affaristico-imprenditoriali e impiegare ingenti capitali illeciti di cui dispone. Rimane alto il ricorso al classico pizzo, ma crescono di gran lunga l'imposizione estorsiva e la corruzione anche di esponenti delle istituzioni. Beni confiscati, croce e delizia per le amministrazioni pubbliche. Se ne è parlato a Catania, che da poco ha approvato un regolamento comunale, sono più di 100 i beni confiscati a Catania. La gestione dei beni confiscati, se da un lato consegna alla società civile per lo più degli immobili, frutto del malaffare, dall'altro lato per gli enti pubblici e per le associazioni a cui sono assegnati questi beni, non sempre gli stessi si trasformano in un valore aggiunto. A Catania è stato da poco approvato un regolamento che vuole segnare il punto di svolta nel sistema di fruizione di queste strutture. Un processo che parte dalla vecchia amministrazione, segnatamente dall'assessore Michele Cristaldi, successivamente mutuato dal nuovo assessore ai beni confiscati Viviana Lombardo, approvato con modifiche dal Consiglio Comunale durante la sindacatura di Enrico Trantino. Oggi, nell'ex discoteca Empire, uno dei beni confiscati a Catania e dunque consegnato al Comune di Catania, un incontro a cui hanno preso parte tra gli altri. Il magistrato Fabio Regolo, il professore Guerino Fares, Antonio Tisci, nonché il presidente della Commissione dei Regolamenti del Comune di Catania Giannina Ciancio, è stato fatto il punto della situazione. In presenza tra gli altri del direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, Bruno Corda, punto focale, consolidare la collaborazione tra il settore accademico e quello amministrativo, garantendo così un impatto diretto e misurabile sulle politiche locali che abbiano rifluenza anche sulla gestione dei beni confiscati. Qui il progetto è quello di creare una vera e propria casa della musica. L'idea è quella, come previsto dal decreto di trasferimento dell'immobile, di fare una casa della musica, quindi qualcosa che sia sicuramente attinente ai giovani, attinente al mondo della musica, così come oggi lo si intende. Quindi anche contenuti audio e video, possibilità appunto di partnership con tanti stakeholders che sono qui presenti in sala, proprio per partecipare a questo progetto. Ma l'obiettivo è quello chiaramente di utilizzare l'Empire, ma anche tutti gli altri beni confiscati dalla mafia che sono entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune di Catania. Se l'abbiamo capito male, riattivare, richiamiamolo ancora Empire, questa zona significa anche dare nuovo smalto ad un'intera area di Catania. Certamente, non dobbiamo dimenticare che questo immobile, oltre ad essere realmente grande, anche molto prestigioso e ben tenuto, si trova in pieno centro storico e quindi è una zona servita dalle metropolitane, una zona che può essere facilmente raggiungibile dai turisti, quindi certamente potrà valorizzare l'intera zona. Il regolamento approvato qualche mese fa dalla Comune di Catania si propone di fornire un quadro chiaro, rigoroso per la gestione e l'utilizzo dei beni sottratte alla criminalità, garantendo trasparenza, legalità, benefici per la comunità locale, grazie anche allo snellimento di procedure di gestione, assegnazione e soprattutto di monitoraggio e controllo. Un nuovo ademecumo di consigli per la sicurezza dei turisti è stato stilato dalla Polizia di Stato e dalla SAC, società di gestione dell'aeroporto catanese. Garantire ai turisti una permanenza serena e sicura a Catania, fornendo gli strumenti pratici e consigli preziosi per affrontare al meglio il loro soggiorno. Mira questo il ademecumo presentato stamattina in sinergia tra la SAC e la Polizia di Stato, nel corso di un incontro utile ad analizzare lo stato della sicurezza e della prevenzione, rafforzando la collaborazione tra le diverse istituzioni e gli operatori del settore. Sarà un ademecum facilmente consultabile che poi può essere, sarà facilmente fruibile da parte di tutti coloro che in particolare hanno delle attività ricettive e che quindi poi sono quelli che ospitano appunto i turisti nel capoluogo, nella provincia. Sicurezza non è un fatto soltanto delle forze di polizia, o della magistratura, è un fatto che riguarda tutti. Tre consigli utili, quello di evitare di tenere il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni, di non lasciare incustudite borse e bagagli, di evitare di portare con sé oggetti preziosi o di valore, di tenere chiuse le portiere dell'auto durante la marcia all'interno dell'aeroporto. Ci fa piacere dare un messaggio che sia da un lato positivo, perché il turismo in Sicilia gode un momento di straordinaria salute, e dall'altro ricordare sempre che comunque stare attenti, accorti, esattamente come succede alle altre parti civili del mondo, è un messaggio sano che vogliamo dare, che vogliamo mettere a disposizione di tutti quei soggetti, ovviamente prevalentemente stranieri, o comunque che vengono dal nord Italia, o dal resto dell'Italia, che possano avere quelle minime precauzioni che possano fare sì di godere al meglio la propria vacanza, la propria permanenza in Sicilia. Una maggiore sicurezza per una migliore accoglienza? La maggiore sicurezza è data dalle forze dell'ordine, che io ringrazio in particolare oggi la Polizia di Stato, perché comunque si rivedono ed è molto bello vedere divise, vedere Polizia in giro per tutta la nostra provincia. Quindi è un servizio che si fa alla cittadinanza e noi non possiamo che essere al fianco della Polizia di Stato, come dire, anche con orgoglio, per la possibilità di lavorare accanto a loro su una cosa che possa migliorare, ripeto, l'accoglienza in Sicilia. No all'autonomia differenziata, no al premierato, ancora un sit-in. Andiamo a Catania. Opposizione politica e CGL e associazioni insieme per dire no all'autonomia differenziata e al premierato. Presidio di protesta nel pomeriggio davanti alla Prefettura di Catania in difesa della Costituzione dell'Unità Nazionale. Un centinaio di persone riunite hanno manifestato il loro dissenso verso una legge bollata come iniqua che spacca il Paese in maniera irreversibile. PD, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana Europea, Verde, Più Europa, Unione Giovene di Sinistra ed altri gruppi di attivisti contro le destre che vogliono, accusano, stravolgere la Costituzione. Impoverendo in mezzogiorno alle spalle del popolo italiano, si legge nel comunicato stampa di presentazione dell'iniziativa, sottolineando la ferria opposizione al governo che sta alimentando disuguaglianze tra nord e sud del Paese. Nei prossimi giorni previste altre manifestazioni di protesta all'indirizzo del governo Meloni, annuncia il segretario generale della CGL di Catania, Carmelo De Caudo. La giornata di oggi, questo presidio non è a caso, sia oggi che domani ci sarà la discussione al Parlamento. È chiaro che questa legge si avvia a passare e diventare decreto legge. Noi come CGL da tempo diciamo no all'autonomia differenziata, i temi sono quelli che il Meridione ha sempre contestato, il fatto che riguarda non solo la scuola ma anche la sanità, le difficoltà che ovviamente riguardano le infrastrutture. È chiaro che questa legge metterà in seria difficoltà non solo la nostra regione ma anche la nostra provincia in modo serio. Pescheria Catania potrebbe snaturarsi per via delle tante botteghe che si trasformano in altro. Vediamo. Il rischio è concreto secondo alcuni. La desertificazione della pescheria e delle aree circostanti allo storico mercato delle pesce e dell'ortofrutta, cioè lo spazio che si apre dalla Villa Pacini che finisce alla Fontana della Melano e via via nelle dedalo di stradine che si legano con la via Garibaldi. Qui da alcuni anni a questa parte si sta assistendo alla riconversione delle botteghe che appunto cessano l'attività di vendita per assumere sotto nuove vesti quella della ristorazione. Molti ristoranti infatti che hanno aperto e che stanno un po' modificando anche quei luoghi. Nulla ovviamente contro i ristoratori ma per molti questo non solo significa il mutare dei tempi ma anche l'abbandono del concetto persino turistico della vecchia pescheria insomma. In estate è sempre pieno ma nei mesi invernali quell'area potrebbe per motivi oggettivi diventare meno attrattiva con tutte le conseguenze del caso. Di questo rischio si parla mai da tempo anche tra gli operatori turistici. Diciamo che noi subiamo un effetto che è l'over turismo. Come tutte le destinazioni noi diventiamo di modi in alcuni periodi dell'anno in particolar modo. E questo diventa una grande attrazione soprattutto per gli investitori o per chi diciamo decide di trasformare una bottega della pescheria normalmente gestita da un venditore in un locale, in un ristorante. Però questa cosa è un po' pericolosa perché se è lasciata così alla libera interpretazione significa azzerare completamente il venditore di frutta o di pesce o di altro e trasformarlo in un ristoratore. E quando un mercato perde l'identità un territorio perde l'identità smette di essere appetibile al turista e di fatto quello che è un vantaggio diventa una perdita di un'opportunità. Alcuni legano la vicenda anche alla pedonalizzazione quindi all'abbandono delle autovetture in quelle strade ma questo potrebbe essere un falso problema certo è che occorre capire la strategia da intraprendere. La soluzione sarebbe quella per i venditori di frutta di continuare ad essere se messi in regola opportunamente collocati da una parte per esempio perché siano ancora un po' da attrazione e contemporaneamente verificare le licenze che si danno il numero di licenze per ristorazione che si dà perché se no diventa una strada dove da qui a breve a novembre quanto il turismo si acquieterà diventerà una strada vuota dove saranno più i ristoranti che gli esercenti e gli esercenti della pescheria stanno venendo sempre meno quindi i venditori sono sempre meno quindi io non vendo più il lagnello vendo il locale me lo trasformo in ristorante però i ristoranti poi sono tutti uguali alla fine no? Grazie a Fulvio Ferraute e a Carmela Fagone questa sera in regia termina questa edizione di Oratg prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani alle ore 14 buon proseguimento di serata a voi tutti grazie a tutti grazie a tutti